Adesso al prossimo cantante è il momento di Pietro Messina al primo di canto di un mezzo contatto di Puglione che ha già complesionato e vinto il concorso la stessa visione del concorso un lavoro del prezzo di Marcelli ci farà ascoltare un plano di Sammy Smith Stay with me a voi Pietro Messina Buongiorno non voglio non vivere quando ti ho scopo di un'altra non voglio salvare mi e mi ma non voglio non voglio ma non voglio non voglio non voglio non voglio salvare mi e mi Sì 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 Sì